Buongiorno a tutti, buon sabato. Oggi il TG Aldo è in edizione straordinaria da Bellaria con degli inviati speciali. Certo, come tutti i TG abbiamo anche noi i nostri inviati. Eccoli che arrivano. Ciao a tutti, ciao. Il Balla e la Daniela. Balla triste perché oggi è l'ultimo giorno. Esatto, però ci godiamo l'ultimo giorno. Adesso vi facciamo vedere che anche oggi, vedete che noi giriamo, noi abbiamo la stand di cam, giriamo. Guardate che giornata, guardate, guardate. Bella, una bella ultima giornata. Dai, ce la godiamo ancora. Sì, sì, sono soli. Guardate, guardate che imbecilli che siamo. Vediamo girare intorno, quelli che ci vedono dicono che non sono normali. Comunque, le ferie sono finite, ci siamo divertiti. Stasera ultima mangiata all'ultima spiaggia. O no, Balla? Sì, sì. Balla, perfetto. Poi speriamo di non fare la coda. Dov'è la Daniela? Non vedo l'Anna. Dov'è? Eccola, 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 eccola. E' Aldino. Aldino. Va bene, signori, vi salutiamo. Buona giornata. Buona giornata. Bene, alle prossime vacanze. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Saluta Aldo, saluta. Saluta, saluta a tutti. Eccoci qua. Ecco, aspetta, aspetta, c'è un altro inviato. Un altro inviato. Un altro inviato. Eccolo qua. Elia. Ciao, Elia. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.